metal bending chi è uri geller commento uri geller 1946 è un medium ad effetti fisici famoso per il metal bending il piegamento dei metalli mentre mangiava la pappa trovarono il cucchiaino contorto tra le sue manine a scuola fermava gli orologi col pensiero sulle sue facoltà ha costruito una fortuna che intuisce solo la mente lo crede un illusionista e non un medium